Da adesso, visto che è comunque l'introduzione di questo corso, è necessario chiarire una cosa. Questo è un corso per imparare l'uso dei GIS e già nel titolo io metto il nome di un software QGIS. Questo non è un gioco di parole. Il GIS in commercio, comunque, in circolazione sono circa 5-6, se non sbaglio. QGIS è uno di questi. QGIS deriva dalla parola quantum GIS. Prima si chiamava quantum GIS, adesso si chiama semplicemente QGIS. E la scelta di utilizzare per un corso in cui spiega i GIS l'utilizzo di QGIS mi è sembrata la cosa più opportuna. Il primo motivo per cui ho scelto QGIS è sicuramente la sua possibilità di essere installato sui tre sistemi operativi maggiormente utilizzati in tutto il mondo. Il mondo Windows, Linux e iMac. Poi, visto la mia esperienza con i vari software GIS che ho provato negli anni, ho trovato in QGIS tutte le funzionalità che anche gli altri hanno. Non dico che QGIS abbia tutte e tutte le funzionalità al 100%, ha la maggior parte delle funzionalità che un GIS dovrebbe avere e quello che lo separa un po' da un GIS piuttosto che un altro GIS può essere raggiunto a un livello un po' più avanzato. Però può essere sicuramente raggiunto, quindi ci sono alcune funzionalità dei GIS molto particolari e molto di nicchia che con un utilizzo un po' più avanzato di QGIS si possono comunque utilizzare. Quindi il verdetto è che non esistono funzionalità che non ho trovato in QGIS. Per quanto riguarda i dati geografici, QGIS ha un altro punto a favore. Premessa. I dati geografici sono distribuiti sotto degli standard, come se fosse Excel, come se fosse Word o come qualsiasi altro formato di file. Alcuni di questi file hanno comunque il loro standard e sono definiti dati geografici. La seconda precisazione è che non tutti i file, in generale, non solo i dati geografici, non tutti i file hanno una licenza che permette a tutti i software di essere aperti. Quindi, ad esempio, la più grande differenza che mi viene in mente, e che è quella più diffusa nell'ambito dei GIS, è la differenza che c'è tra dvg e dxf. I file dvg, infatti, non hanno una licenza che può essere, diciamo... La gestione, l'apertura e la lettura dei file dvg non è permesso, a livello di licenza, da altri software che sono dell'Autodesk, se non viene acquisita direttamente da Autodesk. Mentre l'xf sono uno standard la cui apertura, la cui licenza è open, quindi è aperta. Tutti i software possono prendere questa licenza per l'apertura dei file dxf e utilizzarla all'interno del loro software. Detto questo, questa, diciamo, questa piccola premessa sui formati di file, QGIS permette di aprire una stragrande maggioranza di file, dei dati geografici, anche non geografici. Quindi, questo qua è sicuramente un punto a favore per la scelta di QGIS per questo corso. Gli ultimi due punti sono più dedicati all'ambito QGIS. Infatti, con QGIS, forse potrà sembrare un po' strano, però con QGIS si possono editare i dati geografici. Questa ha tutte le funzionalità per permettere di modificare i file senza delle licenze aggiuntive. Quando installiamo QGIS noi possiamo già modificare i file. E poi, seconda cosa, ho trovato in QGIS una particolare predisposizione per la gestione dei sistemi di coordinate. Oltre alla gestione, che bene o male tutti i GIS hanno questa funzionalità, con QGIS si dà molta enfasi a capire in che sistema di coordinate siamo, a cambiare, a gestire i vari file in differenti sistemi di coordinate. E poi, quando si distribuiscono i dati geografici, anche quando li ricevete, bisogna sempre indicare il sistema di coordinate, perché c'è una parte del corso in cui viene spiegata molto meglio, perché se no si possono commettere degli errori di metri, anche di un centinaio di metri. Quindi, la gestione dei sistemi di coordinate, anche se, diciamo, non per spaventarvi però, all'inizio può essere anche gestita quasi automaticamente senza neanche essere presa in considerazione. Un passaggio subito successivo è quello, ok, il sistema di coordinate di questo dato geografico che sto gestendo, qual è, come posso modificarlo, dove si posiziona a livello mondiale. Ebbene, questo è un altro punto a favore, diciamo l'ultimo che ho raccolto, che mi vengono in mente, del motivo per cui si utilizza QGIS.